tornata in memoria di Laria Alpi, perché sarei lì a dire io che è stata una giornalista, una validissima giornalista italiana, la quale è stata uccisa mentre si trovava sul posto di lavoro, al di là delle cose che possa aver fatto o non aver fatto, che si trova sul posto di lavoro. Questo credo che sia il riconoscimento più importante che si possa fare ad una persona della linearità di Laria Alpi, perché era una grande giornalista su questo, non c'è dubbio, e invece con questa speculazione politica hanno ridotto la questione, l'hanno immiserita e hanno impedito che da qualunque parte delle persone perbene si tributasse in memoria di Laria Alpi il giusto riconoscimento. Bene Avvocato Carlo Tormina, per il Fahrenheit 912 la ringraziamo per il suo contributo e a risentirci. Grazie di nuovo.